Abbiamo visto in precedenza alcune informazioni sull'ambiente ebraico in cui il primo canto liturgico cristiano si era sviluppato. Come tutti sappiamo Gesù, Maria, Giuseppe, gli erano ebrei e sappiamo anche che frequentavano sia il Tempio che la sinagoga. Non solo, ma sappiamo che Gesù predicava nelle loro sinagoge, come ci dicono i Vangeli. In Luca 4, versetti 16-23, leggiamo. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato collunzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. Per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano. Non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose. Di certo voi mi citerete il proverbio. Medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno? fallo anche qui nella tua patria. Insomma Gesù leggeva ma in realtà quella lettura era una cantillazione come ipotizzato da molti studiosi. La cantillazione è una intonazione melodica tra la parola e il canto come quella che ascoltiamo nella Salmodia. Ne abbiamo già parlato. Delle referenze musicali nei Vangeli sono anche il canto degli angeli alla nascita del Signore, l'osanna per la sua entrata in Gerusalemme che secondo alcuni era un grido cantato, l'inno cantato per l'ultima cena che era tipico della liturgia ebraica. Abbiamo anche la danza della figlia di Erodiade che costò la testa al Battista, un aspetto che ci dice molto sulla diffidenza dei padri per la danza. Un passo controverso è quello della morte sulla croce in cui Gesù cita il versetto del Salmo Dio mio, Dio mio. Visto che per gli ebrei questi Salmi avevano delle formule di cantillazione, alcuni ipotizzano che Gesù possa averlo non semplicemente citato ma quasi intonato. Ricostruire la liturgia dei primi secoli non è una cosa semplice e questo è stato già osservato da molti studiosi. Come abbiamo già detto c'è la questione dell'influenza della liturgia ebraica su quella cristiana. Alcuni studiosi pensano che questa influenza è stata veramente importante come troviamo in un libro chiamato Il Sacro Ponte scritto da Eric Werner. Altri pensano che in realtà le due liturgie, quella ebraica e quella cristiana, siano cresciute insieme. Abbiamo alcune importanti testimonianze di una prima innodia cristiana, almeno secondo alcuni, in delle lettere di San Paolo. In effetti alcuni dei passaggi sembrano riferire quasi alla citazione di primi inni cristiani. Pensiamo alla seconda lettera a Timoteo 2, versetti 11-13. Certa è questa parola, se moriamo con lui vivremo anche con lui, se con lui perseveriamo con lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo anche egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Insomma, questo esempio ed altri mostrebbero come in San Paolo vengono citati alcuni inni cristiani dell'inizio. Queste sono ovviamente soltanto delle ipotesi, ma vengono accreditate da vari decenni di studi. C'è un passaggio importante negli scritti del filosofo Filone di Alessandria che ci riferisce di alcune celebrazioni liturgiche che hanno fatto pensare ad alcuni studiosi essere questa una descrizione di una liturgia dei primi cristiani. In realtà sembra si tratta della descrizione della liturgia di una setta giudaica, i terapeuti. Nella prima lettera di Clemente Romano, successore dell'Apostolo Pietro nella sede di Roma, troviamo quanto segue. Sono per noi evidenti queste cose e siamo scesi nelle profondità della conoscenza divina. Dobbiamo fare con ordine tutto quello che il Signore ci comanda di compiere nei tempi fissati. Egli ci prescrisse di fare le offerte e le liturgie, e non a caso o senza ordine, ma in circostanze ed ore stabilite. Egli stesso, con la sua sovrana volontà, determina dove e da chi vuole siano compiute, perché ogni cosa fatta santamente, con la sua santa approvazione, sia gradita alla sua volontà. Coloro che fanno le loro offerte nei tempi fissati sono graditi e amati. Seguono le leggi del Signore e non erano. Al gran sacerdote sono conferiti particolari uffici liturgici. Ai sacerdoti è stato assegnato un codico specifico e ai leviti incombono proprio i servizi. Il laico è legato ai precetti laici. Insomma, ci si cominciava a preoccupare per l'ordine e la disciplina nella liturgia, anche se non erano tempi semplici, viste le difficoltà in cui i primi cristiani si trovarono a vivere.